Un tribudio di colori ha invaso il circuito Marconi di Fano per Colora la Vita Feeling Edition, evento organizzato da Avis Giovani. La corsa camminata di 4 chilometri ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi, i quali, muniti dei rispettivi kit, hanno dato il via alla quarta edizione. Ed ecco che è partita ufficialmente l'edizione Feeling Edition di Colora la Vita. Tante le novità previste a partire dal tema dell'iniziativa. Questa è l'edizione dedicata al sentimento, infatti è la Feeling Edition, dedicata al legame, al legame che lega noi donatori ai riceventi, ma non solo, lega proprio le persone, quindi la solidarietà. L'evento di impulso giovanile si è distinto anche nel rispetto dell'ambiente con una prima edizione eco-friendly. Abbiamo eliminato le prevendite cartacee, abbiamo sostituito con un'applicazione, Ticket SMS, che permette di avere il biglietto, la prevendita, direttamente sotto il cellulare, ovviamente per eliminare l'uso di carta. Ulteriore novità della famiglia Avis è stata quella della partecipazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che assieme alle rispettive guide hanno partecipato all'evento, legati da un nastro, concedendo l'opportunità di correre uniti in coppia. Noi abbiamo portato, la prevenzione non va in vacanza, con alcuni piccoli accorgimenti, noi possiamo tenere sempre vivi i nostri occhi, perché basta poco ad avere dei problemi visivi. Infine, a colorare il cielo di Fano, la composizione del simbolo infinito. Veramente l'infinito ha gratificato questa bellissima giornata, questa feeling edition, questo senso di appartenenza e questo senso veramente del mondo del dono. Quindi grazie ancora a tutti voi che avete partecipato e avete reso questa giornata indimenticabili. Siete stati tantissimi, grazie di cuore a tutti quanti. Grazie per la visione!